Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Oh, I think in the 80's, I was playing in New York and the New York State Council of the Arts said they would promote a concert of mine around New York State if I had a piano concert. So I rummaged around, so I rummaged around, and I put together enough music to make a piano concert, but mostly it wasn't actually written for the piano. Grazie a tutti. It's a tutti. con un piano concerto, è molto diverso da playing with the ensemble per me, in un certo modo. La prima cosa è che c'è una tremenda intimità quando sei solo a la stage. E ho trovato che io like that molto. When I'm sharing the performing music with other people, I'm sharing part of the enjoyment of playing. That's one of the reasons that you write music. That's one of the reasons that you write music. That's one of the reasons that you write music. e abbiamo già fatto. Abbiamo già fatto numerose concerti, dove io andiamo fra 1 a 10, e poi prendiamo un break, e poi prendiamo 11 a 20. È quasi un portrattamento in un certo modo, che non ho mai intendo, e poi è stato unico. Grazie a tutti. 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 a tutti. e tutti. a 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 tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,